H2O è una manifestazione storica di Bologna Fiere che stiamo cercando di arricchire con nuovi contenuti. Abbiamo quest'anno la proposta integrata di H2O con alcune manifestazioni sinergiche che sono organizzate da Mirumir. Quindi oltre ad esserci un progetto, quello che portiamo avanti noi storico sul ciclo delle acque, tutte le tecnologie per il ciclo dell'acqua integrato, quindi oltre ad H2O ci saranno anche altre quattro manifestazioni, quindi Fuels Mobility che debutta per la prima volta insieme a GNL, la Convention GNL, la manifestazione dei droni Drone Italy e una manifestazione dedicata all'idrogeno ESEE. Quindi l'insieme di queste manifestazioni anche negli anni successivi andrà a costituire un progetto nuovo, abbiamo fatto una società che si chiama Bologna Fiere Water & Energy e l'obiettivo è quello di creare sinergie e far avere in presenza sempre più espositori e soprattutto visitatori che possano trovare molte novità in fiera da poter apprezzare. Grazie. Grazie.